Sappiamo che Seps è una squadra comunque ostica, è ultima nel nostro gruppo, però appunto ha dato fastidio a molte squadre, ha vinto anche una partita tipo all'ultimo tiro, insomma è una squadra che sa stare attaccata all'avversario. Sicuramente la notizia è che Jazz era out ci ha dato un po' una batosta, perché comunque Jazz è fondamentale nel nostro sistema di gioco. Però sono contenta di come tutte hanno dato un contributo oggi in più, cioè anche per esempio mi viene da pensare ad Aisha che ha giocato da quattro, che comunque lei è abbastanza versatile, però insomma ha dovuto fare un passo in avanti anche per la squadra. Ma tutte penso che abbiamo veramente dato un qualcosina in più e si è visto in campo. Io adesso sto giocando fuori ruolo, diciamo che insomma ho un passato da quattro, però sicuramente per me è giocare fuori ruolo. Io sono contenta, insomma personalmente, della prestazione di oggi, però devo fare anche tanti complimenti alle mie compagne che mi hanno trovata, perché i tiri che ho preso sono stati tiri creati dalla squadra e sono stati passaggi trovati dalle mie compagne. Cerco di dare il massimo nello spazio che mi viene dato e cerco appunto di trovare fiducia anche attraverso le mie compagne di squadra, che sono sempre pronte a darmi una pacca sul sedere in ogni momento, dall'allenamento poi anche in partita. C'è chi gioca di più, c'è chi gioca di meno, però la cosa che personalmente sento, ma penso anche le altre, è che c'è un grande rispetto per chi siamo come persone, ma anche come giocatrici, che comunque è il nostro lavoro. E credo che questo supporto che ci diamo l'un l'altra sia la base su cui poi costruiamo questa fiducia che poi troviamo in campo. Secondo me parte tanto appunto da come ci supportiamo a vicenda. Grazie. 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 Grazie.